Amara sorpresa per i residenti del quartiere Acquagrassa Salinelle che ieri mattina hanno ritrovato la bambinopoli del quartiere distrutta. E' accusato di aver messo a segno quattro rapine alle isole Baleari nell'estate 2016, in manette il paternese Gianluca Baeli. Botte da orbi domenica mattina in via Vincenzo Giuffrida a Catania, calci e colpi di bastoni ai danni di un gruppo di persone, probabilmente extracomunitari, messi in fuga. Incidente questa mattina sulla SS284, un 85enne alla guida di una motoape, ha compiuto un'inversione ed è stato tamponato da un furgone, l'anziano ricoverato in ospedale. L'Istituto Scolastico Gemmellaro di Catania, insieme a Sicilia Antica, parteciperà alla prossima edizione della Beat di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dall'11 al 13 febbraio. Domani sera al Via il Festival di Sanremo, firmato Claudio Baglioni. Anche quest'anno una nostra troupe seguirà la Kermesse musicale con servizi realizzati sul posto. Oggi la prima conferenza stampa ufficiale con i conduttori, ai nostri microfoni Michel Unziker. Ancora da Sanremo, ieri con il lattaglio del nastro affidato a Elisa Esoardi, è stata ufficialmente inaugurata a Casa Sanremo. Il Palafiori ancora una volta diventa luogo dell'accoglienza degli addetti ai lavori e il centro dell'intrattenimento e delle iniziative che si svolgono in città. Tutto facile per il paterno calcio che supera a domicilio con il risultato di 5-0 l'Atletico Catania. Paternesi ha un punto dai play-off e mercoledì la sfida con la capolista Città di Messina. Edizione della sera per Chuck News e torniamo a parlare di elezioni politiche delle elezioni del 4 marzo perché è arrivata una nota sulla candidatura di Mauro Scaccianoce nella lista Italia-Europa insieme. Mauro Scaccianoce è candidato infatti alla Camera dei Deputati Collegio Plurinominale di Paternò, Avola, Ragusa e Siracusa. Amara sorpresa per i residenti del quartiere Acquagrassa che ieri mattina hanno ritrovato la bambinopoli del quartiere distrutta. Ci racconta tutto Mary Sottile. Area sorvegliata. Si legge in questo cartello che continua. Si prega di non sporcare, rispettare l'ambiente, rispettare la bambinopoli. Ed è tutto quello che non è accaduto per questa bambinopoli di piazza della gioventù. È stata inaugurata appena dieci mesi fa per volontà dei cittadini del quartiere Acquagrassa Salinelle. Sono stati loro a sistemare l'aria, a mettere il tappetino. Ebbene, come vedete da queste immagini di Agatino Catalano, la bambinopoli è in uno stato davvero pietoso. È sporca, ma non è soltanto questo quello che lamentano i residenti che ieri mattina sono arrivati qui per pulire quest'aria. Ma quello che hanno trovato proprio ieri mattina è la distruzione. Qualcuno ha rubato le altelene, altri giochi sono stati distrutti. Addirittura anche al terreno sintetico, al prato sintetico, è stato dato in parte fuoco. Una situazione assolutamente da condannare. Loro stessi condannano con forza quanto accaduto qui in questa parte della città. Quest'aria dedicata assolutamente ai bambini è stata assolutamente violata. Informato il sindaco, Nino Naso dell'Accaduto, ha evidenziato che insomma prenderanno subito dei provvedimenti. Quello che viene chiesto a gran voce è sicuramente la sorveglianza della zona. Ieri mattina per voi l'amara sorpresa. Siete arrivati qua per ripulire, cosa che non compete tra l'altro a voi, ma volontariamente avete deciso di tornare a curarvi di questo angolo del territorio, però praticamente avete trovato distrutto. Sì, ieri mattina eravamo qua, avevamo l'appuntamento con altri membri del comitato per darci una ripulita e mettere delle staccionate che mancavano. Quando abbiamo visto che quello che state vedendo anche voi siamo rimasti, non senza parole, proprio amareggiati tanto perché l'abbiamo fatto con tutto il cuore, ci siamo impegnati per dare alla città i bambini del quartiere. Anche il quartiere è rimasto ieri senza parole, infatti si sono tutti resti disponibili se avevamo bisogno di un aiuto, qualcosa, perché è stata una amara sorpresa per tutti. Loro, chi, questi ragazzi, chiunque sia stato non hanno capito che noi abbiamo voluto regalare alla città, ai bambini, a tutti, un piccolo spazio dove poter giocare e fare. Io mi meraviglio come noi paternesi, dico noi, quando andiamo negli altri posti ci sappiamo comportare bene, sappiamo giudicare e tutto, però quando ci sono le nostre cose le distruggiamo. Non amiamo il nostro paese, non amiamo noi stessi secondo me, perché se ognuno ci tenesse come la propria persona nel paese è, con la cura e tutte queste cose. Penso che non si dovrebbe comportare così. Quello che voi chiedete è il rispetto, questo spazio è uno spazio aperto? Noi chiediamo rispetto e tolleranza anche da chi qualcuno magari si lamenta per il chiasso notturno, anche se si devono rispettare degli orari, specialmente d'estate. Noi chiediamo il rispetto da parte dei genitori, di chi porta i bambini, i genitori, gli abitanti della zona e tutti, anzi se vogliono collaborare con noi sono ben accetti tutti. Per un blocco delle vie respiratorie la scorsa notte è stato trasportato all'ospedale civico di Partinico, un ragazzo di 17 anni residente a Cinisi. I medici dopo gli esami clinici hanno accertato che la crisi era stata provocata da una dose di cocaina mista a colla. Il ragazzo dopo aver inalato la sostanza si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale, i medici l'hanno salvato. Adesso è fuori pericolo, è stato trasferito a Palermo per ulteriori accertamenti sul fatto, indagano i carabinieri. E' accusato di aver messo a segno quattro rapine alle isole Baleari nell'estate 2016, in manette il paternese Gianluca Baeli. Era in vacanza alle isole Baleari, un lungo periodo di riposo protrattosi tra i mesi di luglio e settembre nell'estate del 2016. L'uomo Gianluca Baeli, 29enne paternese, ha deciso però di unire al RELAX anche un'attività che gli potesse permettere di continuare le vacanze da Nababbo. Niente lavoro, invece eccolo entrare in azione, come ritiene dalle sue indagini la polizia iberica, ben a quattro volte in due istituti bancari per portare via complessivamente circa 72.000 euro. La giustizia talvolta è lenta, le indagini hanno bisogno di tempo ma nella quasi totalità dei casi, come in questo caso, si paga quanto commesso. Ricostruendo i fatti con le indagini, come detto, eseguite dalla polizia spagnola, Baeli avrebbe agito in tre diverse occasioni all'istituto bancario BBVA di Ibiza e di Abda con i colpi messi a segno il 14 luglio e ancora il 5 e l'8 settembre del 2016. Sempre l'8 settembre, per arrotondare, probabilmente non soddisfatto dei soldi arraffati, ha agito contro la banca marca di Sant'Antoni. Svolte le indagini, la polizia spagnola ha fatto scattare l'ordine d'arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria spagnola ed eseguito dai carabinieri della compagnia di Paternò. All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. E adesso andiamo a Catania, botte da orbi, domenica mattina in via Vincenzo Giuffrida, calci e colpi di bastoni ai danni di un gruppo di persone, probabilmente extracomunitari, messi in fuga. Il fatto è stato ripreso con un cellulare e poi messo su internet. Vediamo. 90 secondi di pura violenza e la durata del video che ritrae 13 persone, quasi tutte armate di spranghe o bastoni, iniziare a picchiarsi selvaggiamente mentre attorno passavano automobilisti a dir poco scioccati da quanto stavano vedendo. È domenica mattina e siamo in via Vincenzo Giuffrida, ampia arteria del centro di Catania, tra la circonvallazione e corso delle province. Le immagini riprese presumibilmente da un balcone o comunque da un posto più elevate rispetto alla sede stradale parlano piuttosto chiaro. Il video inizia a rissa già avviata. Si vede un gruppo di persone, tutti uomini, che comincia a picchiare selvaggiamente altre persone, tra cui uno che spicca nel gruppo per aver indosso dei pantaloni rosa. La furia del gruppo si è scatenata contro altri che si sono dati alla fuga, scappando verso la parte alta di via Vincenzo Giuffrida e le vie limitrofe. Sui marciapiedi ancora altre aggressioni, poi il gruppo vittima del raid si dilegua come poco dopo anche gli stessi aggressori. Il semaforo di via Vincenzo Giuffrida è da anni punto di ritrovo per extracomunitari di solito di origine bengalese che si guadagnano da vivere come lavavetri. È probabile che il raid abbia a che fare proprio con il piccolo business, se così può essere definito, della polizia dei vetri alle auto che sono costrette a fermarsi in attesa del semaforo verde. Quando i carabinieri sono arrivati, di vittime e aggressori non c'era più alcuna traccia. Resta lo sgomento e la preoccupazione per una scena di violenza inaudita consumata di domenica mattina nel cuore della città tra gli automobilisti che quasi erano costretti a fare slalom tra calci e colpi di bastone. Incidente questa mattina sulla strada statale 284. Un 85enne alla guida di una moto ape ha combiuto un'inversione A2 ed è stato tamponato da un furgone. L'anziano ricoverato in ospedale è comunque fuori pericolo. La cronaca. Tenta una pericolosissima inversione A2 sulla 284, precisamente sul rettilineo del tratto di Santa Maria di Licoddia viene tamponato e finisce in ospedale. È successo questa mattina protagonista un 85enne che alla guida di una moto ape compie una manovra assurda e azzardatissima venendo tamponato da un furgone che veniva dalla direzione opposta. L'anziano procedeva in direzione Catania quando ha accostato e ha tentato l'inversione. Inevitabile l'impatto con la moto ape che si è capovolta di fianco. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale di Paternò. L'85enne ha riportato varie scoriazioni e un forte trauma ad una spalla, illeso invece il conducente del furgone. L'85enne rischia adesso il fermo amministrativo del mezzo, il ritiro della patente e una multa salata per aver violato il codice della strada. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della compagnia di Paternò e la polizia municipale di Santa Maria di Licoddia che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. La nostra informazione riprende subito dopo. Abbatti la tua bolletta! Con un sistema fotovoltaico sul tetto della tua casa puoi catturare l'energia del sole e utilizzarla per la tua abitazione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiave in mano 3.900 euro più IVA al 10%. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiave in mano compreso solare termico con boiler 300 litri con formula ESCO totale 4.900 euro più IVA al 10%. Per azienda impianto chiave in mano da 20 kilowatt 20.000 euro più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure 340 33 57 408. Si eseguono manutenzioni, lavaggio moduli e controlli oltre a forniture su impianti fotovoltaici esistenti. Energreen Power. Contrada 3 Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientremo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Il governo nazionale sta per nominare il presidente della regione siciliana nello musumeci commissario straordinario per le emergenze, rifiuti ed acqua. Nei prossimi giorni si sceglierà il nodo. Il consiglio dei ministri infatti è convocato per giovedì e già allora confidano a Palazzo d'Orleanza. Arriverà l'attesa nomina frutto di contatti e incontri avvenuti nei giorni scorsi. Il presidente sarebbe affiancato nella gestione delle due grevi emergenze da due coordinatori che dovrebbero essere l'attuale prefetto di Palermo Antonella De Miro e l'ex prefetto di Catania Alberto Di Napoli che è stato anche più volte commissario straordinario per diversi tipi di emergenze ambientali. L'istituto scolastico Gemmellaro di Catania insieme a Sicilia Antica parteciperà alla prossima edizione della Bit di Milano la Borsa Internazionale del Turismo in programma dall'11 al 13 febbraio. L'istituto Gemmellaro di Catania parteciperà alla prossima edizione della Bit di Milano la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera Milano City dall'11 al 13 febbraio. La storica manifestazione organizzata da Fiera Milano porta ogni anno nel capologo Lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Gli studenti del Gemmellaro vi presenteranno parte nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro prevista dalla legge 107 del 2015 con lo schema di impresa formativa simulata Blended, non come visitatori ma come espositori simulando il lavoro di quattro aziende del settore turistico-culturale. Insieme agli studenti catenesi ci sarà anche una delegazione di Sicilia Antica con il paternese Giuseppe Barba Giovanni, responsabile regionale Giovani, che porterà al Bit la Sicilia Angioina e la Sicilia Aragonese mediante servizi di guide culturali specializzate nei luoghi e beni artistici del periodo del regno di Trinacria. I progetti hanno ricevuto il patrocinio dell'assessorato ai beni culturali della regione siciliana e del comune di Paternò. Per la Sicilia rappresenta un'occasione d'oro per promuovere cultura e storia isolana dinnanzi a viaggiatori e operatori turistici su scala internazionale che da oltre 30 anni si incontrano al Bit, diventato ormai punto d'incontro tra decision maker e esperti al settore buyer accuratamente selezionati e profilati provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera del turismo culturale. L'Istituto Gemmellaro già nel 2014 ha posto le basi per spin-off di imprese reali allo scopo di sostenere le imprese abbiate dagli studenti al termine dell'alternanza scuola-lavoro, mettendo anche a disposizione la struttura scolastica per il primo anno di attività. Il progetto, soprannominato Enzo Elado, verrà presentato al Bit Milano 2018. Ed oggi 5 febbraio a Catania si festeggia Sant'Agata, patrona della città, giorno dedicato alla patrona della città catanese. Tutta la città è dunque in fermento. Ieri l'arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina Piazza Stesigoro ha dedicato parte dell'Omelia ai giovani. I ragazzi, i giovani, ha detto Cristina, sono la ricchezza di un paese, di una comunità, non possiamo accettare che siano costretti ad andare altrove. Questa è una priorità che dal punto di vista educativo e formativo, dal punto di vista sociale e da quello ecclesiale deve stare a cuore a tutti, ciascuno per le proprie competenze, ma tutti uniti in un unico impegno corale che speriamo sia fecondo nel bene. E proprio sulla festa di Sant'Agata una curiosità che arriva addirittura da Londra, perché questa sera un gruppo di londinesi si riunirà nel centro della capitale britannica Piccadilly Circus per guardare in diretta via internet le immagini della festa di Sant'Agata e commentarle in lingua inglese. L'iniziativa organizzata dalla community No Profit Sicily Culture accende i riflettori sulla festa di Sant'Agata da una prospettiva straniera ed approfondisce i temi culturali legati alle celebrazioni Agati nell'incontro si svolge all'interno di un ristorante siciliano. E adesso l'ampia pagina che da oggi dedichiamo alla festival della canzone italiana Sanremo 2018, perché anche quest'anno una troupe di Ciac Tele Sud e TVA e Radio Studio Italia racconterà giorno dopo giorno con interviste ai protagonisti di Sanremo e immagini esclusive proprio questa edizione del festival della canzone italiana. e allora tra le interviste oggi sentiamo quella che è stata registrata con Michelle Luntziker. Conferenza stampa inaugurale della 68esima edizione del festival di Sanremo. Oggi i conduttori della Kermesse della canzone italiana erano qui insieme a noi giornalisti per delucidarci in merito appunto alle novità di questo festival. Noi siamo riusciti ad intervistare la conduttrice del festival, Michelle Luntziker, ma anche gli attori conduttori del dopo festival. Guardate. Michelle, cosa cambia dal 2007 l'ultima volta in cui sei stata protagonista del festival ad oggi? Cambiano tante cose, sono 11 anni, sono passati 11 anni, sono arrivati i social, io sono cambiata ovviamente, speriamo, in 11 anni di aver fatto un percorso anche personale, vediamo, comunque non c'è come farlo. Come ti senti nuovamente mamma al festival? Ah, la domanda trabocchietto. Com'è lavorare con Baglioni? Stupendo, è veramente un galantuomo, è una persona per bene, non so come, poi in più è anche molto ironico e autoironico. Grazie Michelle. Hai parlato di nuova idea per questo tuo dopo festival, che cosa vuol dire traslare il teatro anche in televisione? Vuol dire che, intanto siccome torniamo al teatro del Casinò, dove è stato fatto il festival, tra l'altro proprio quello del 68 è stato fatto lì, e avendo a disposizione un materiale umano di un certo livello, perché è Sabrina Impacciatore, Rolando Ravello, ci sarà Paolo Genovese, c'è Rocco Tanica, ovviamente puntiamo molto sull'improvvisazione, nel senso che abbiamo deciso invece di stare lì a scalettare una puntata con un programma televisivo, di mettere i cantanti in scena e di reagire noi con i nostri pseudo personaggi, che poi alla fine siamo noi stessi che reagiamo, come se fosse un spettacolo improvvisato. Sabrina, sei al momento in tv con la serie Immaturi, quanto sei immatura nella vita e immatura per il festival? Guarda, per aver scelto di essere qui tu capisci che sono integralmente immatura e anzi sono molto pentita di esserlo, perché forse avrei un minimo istinto di autoconservazione, cosa che non mi appartiene, sono quindi una che si lancia nel vuoto, spero di non spiaccicarmi, purtroppo io ho la sindrome di Peter Pan e quindi questa è una sindrome che peggiora nel tempo e non ci si può proteggere. Com'è lavorare con i tuoi colleghi in un contesto che però non è il vostro, appunto quello della televisione? È l'unica cosa rassicurante, sapere di avere dei colleghi che sono anche degli amici, vabbè Picchio per me è un fratello, proprio gli voglio un bene dell'anima, siamo fratelli anche nel film di Gabriele Muccino, e Rolando, siamo cresciuti insieme, Rolando, caro amico, abbiamo iniziato insieme anche con Edoardo, noi abbiamo proprio iniziato insieme a fare gli attori, a coltivare questo sogno di attori, per cui è quasi commovente l'idea di condividere questo salto nel buio totalmente diverso da quello che abbiamo fatto finora e ci spalleggiamo a vicenda, ci diciamo ci dobbiamo divertire, dobbiamo giocare tra di noi, insomma vediamo quello che succede, speriamo bene. E ancora da Sanremo, ieri il taglio del nastro affidato alla conduttrice Rai Elisa Isoardi è stata appunto ufficialmente inaugurata a casa Sanremo, il Palafiori ancora una volta diventa il luogo dell'accoglienza per gli addetti ai lavori e il centro di intrattenimento e delle iniziative che si svolgono in città. Vediamo Undicesima edizione di casa Sanremo, l'evento collaterale alla Kermess per Antonomasia della musica italiana che dai là appunto al festival che partirà proprio martedì 6 febbraio. In tale occasione tanti ospiti, tante interviste esclusive, ma che cos'è casa Sanremo? È un contenitore trasversale di cultura, di musica, di show cooking ma anche educational. Noi abbiamo proprio intervistato in esclusiva per le nostre telecamere la madrina di questo particolare evento, Elisa Isoardi. Sono felicissima di essere stata oggi la madrina e di aver aperto casa Sanremo perché è davvero accogliente e poi ho sentito molto calore e molto amore. È quel luogo che dà voce alle persone che non hanno voce, quindi attività collaterali all'Arison, però con l'Arison all'interno. È fantastico, H24 si ride, si scherza, si balla, si celebra la musica e la bellezza. Cosa vogliamo di più? Casa Sanremo peraltro quest'anno strizza l'occhio anche a temi importanti, quali anche la lotta al femminicidio e un'attenzione particolare ai bambini. C'è una linea sociale davvero molto utile e secondo me da valorizzare, però bambini ho visto assolutamente e contro il femminicidio e anche contro le mafie. Che cosa ti aspetti da questo Sanremo firmato 2.0 Claudio Baglioni? Fantastico, allora curiosa da Matti perché sono tre conduttori, conduttori e non conduttori, Pierfrancesco è uno dei miei attori preferiti. Claudio Baglioni è assolutamente, non ci sono aggettivi per descrivere, è un cantante pazzesco e Michel Unziker è tutto ciò che è la bellezza, è un vulcano. Questi ingredienti saranno esplosivi insieme direi. Non c'è che da guardarlo, non c'è che da guardarlo, dai 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 che martedì arriva presto. Ti chiedo solo un saluto per gli amici di TVA e Radio Studio Italia. Allora un saluto agli amici di TVA e Radio Studio Italia. Ciao ragazzi. E adesso lo sport e il calcio, tutto facile per il paterno che supera a domicilio con il risultato perentorio di 5-0. L'Atletico Catania paternesi ormai a meno uno dalla zona playoff. E' mercoledì la sfida con la capolista Città di Messina. Ci racconta tutto Davide D'Amico. Tutto secondo pronostico, il paterno vince facile sul campo dell'Atletico Catania per 5-0. Una manita che non ha avuto storia in quanto il paterno ha dominato il match dal primo all'ultimo minuto. Anche se ce la dire che l'Atletico Catania ha giocato con molti tifosi in campo. Un'Atletico Catania che in gravissima crisi societaria e tifosi pur di non far perdere il titolo stanno scendendo in campo. Match scontato, lo era già alla vigilia con il paterno che ha dominato sin dal primo minuto poco più di un allenamento per la squadra di mister Pidatella. In vista soprattutto del match di mercoledì con il Città di Messina capolista. Match che si giocherà all'Orazio Raiti di Biancavilla. Diciamo che i gol sono stati segnati da Minutola, Polat il terzo gol dal difensore Capo Zucchi, poi Capitane Villanisi per il 4-0. Il pocherissimo invece lo ha realizzato Trombino che si è fatto anche parare un calcio di rigore. Ovviamente Pidatella ha dato spazio alle cosiddette seconde linee tenendo a riposo molti giocatori in vista del match di mercoledì con la capolista Città di Messina soprattutto in porta. Caruso non è stato del match mentre hanno giocato Gulisano e Matassa. Dunque il Paternò vince, risparmia energia in vista della gara di mercoledì ma le buone notizie non finiscono con questa vittoria perché il Giarre ha perso sul campo del Rosolini. Dunque in questo momento in classifica il Paternò ha un solo punto di distacco dalla zona playoff con tutti gli scontri diretti da giocare. Dunque una classifica buona per la squadra di Pidatella che con questi due successi consecutivi la domenica scorsa ad Adrano e adesso con l'Atletico Catania si è pesantemente rilanciata in classifica. Ma la prova del 9 sarà il match di mercoledì con il Città di Messina squadra forte e quadrata prima in classifica che dunque venderà cara la pelle. mercoledì a Biancavilla ma questo Paternò ha davvero tutte le carte in regola per fare un bruttissimo scherzetto al Città di Messina e continuare la propria scalata verso i playoff. L'importante è anche oggi che abbiamo vinto, abbiamo preso dei buoni tre punti e ci avviciniamo alla zona playoff. Il nostro obiettivo sono i playoff e mercoledì è importantissimo vincere. Noi vorremmo vincere, ci stiamo preparando bene, lo staff ci sta dando, vedendo anche il Messina durante varie partite, ci sta dando consigli su come affrontare al meglio la gara e cercheremo di dare sicuro su che daremo la maglia e cercheremo di fare il meglio per portare non dico un punto ma magari anche i tre punti. Sarà una partita difficile, ci ha incontrato la capolista, è sempre difficile, poi con il Città di Messina ancora di più perché sta dimostrando ogni domenica di meritare questa classifica. Squadra compatta, squadra difficile da affrontare però siamo consapevoli della nostra forza quindi cercheremo di fare una grande prestazione e di fare bene. Si fa sempre l'elogio a quello che sarà, bisogna fare l'elogio a quello che è stato fino adesso, è stata dura mantenersi in linea in certi programmi, sicuramente bisogna fare di più ma è anche vero che la media punti di questa squadra da ottobre è un po' più alta rispetto a prima. Sarà difficile per tutti raggiungere gli obiettivi, anche per il Città di Messina arrivare primi, quindi adesso si entra nel pieno del campionato e essere vicini all'obiettivo iniziale non è roba da poco, quindi noi siamo consapevoli di questo, sappiamo che siamo in ritardo rispetto a qualche altra squadra abbiamo meno vantaggio però non per questo insomma molleremo la presa. E con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera, come sempre vi ricordo l'edizione del giorno alle 13.30 e la prima edizione della sera alle 20, i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito www.checktelesud.com A voi, un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti!